I racconti di Masha I bambini buoni dividono sempre tutto con gli altri e lo fanno nel modo giusto Anche a me amici piace tanto condividere, sapete? Significa avere a cuore qualcuno Ma basta adesso parlare di me E' meglio invece che gli racconti una bella favola Bene corpo di mille balene, hanno risolto il puzzle E' una tartaruga